Oggi la televisione ci ha informato che ricorre un anniversario oppure una giornata nazionale particolare della liberazione dagli sprechi. Forse qualcuno a cui è giunto il nostro invito avrà pensato, hai visto, e questi parlano di cultura, magari intendendo pensare, dire che la cultura si ascrive agli sprechi, secondo le logiche spesso correnti nelle politiche di governi locali, nazionali, internazionali. Ma chi sta qua è convinto, come noi, che è vero il contrario. Se non investiamo, se non si investe in molteplici modi sulla cultura si spreca tempo e soldi. Quindi il tema di oggi è la cultura come risorsa. Il tema sarà sviscerato da tutti voi qui presenti. Io ho il compito di chiarire un po' il titolo, soltanto il titolo del nostro convegno e quindi anche del De Pliande. Il titolo ce l'ha proposto il nostro vescovo, come ha proposto il convegno. Quindi io saluto anzitutto padre Giuseppe Piemontese che sta qua facendo l'intervista e tutte le autorità qui presenti. Poi nel prosieguo dell'incontro avremo modo di farlo personalmente. Il titolo del convegno è stato suggerito dal nostro vescovo e l'ISTES che io rappresento, l'Istituto di Studi Teologici, Storici e Sociali, molto volentieri ha cercato di organizzarlo. È un forum, quindi vuol dire che è un momento aperto di relazione. Non ci sono relatori, ma ci sono relazioni. Cerchiamo di mettere insieme, di mettere in rete le nostre visioni intorno al tema. E qual è il tema? È la cultura come risorsa. Non si tratta di raccontare ognuno di noi quello che fa. Sappiamo che la città è ricca di esperienze, di attività, di protagonismo, di volontariato culturale. No, non dobbiamo raccontare, dobbiamo guardare oltre. E per oltre è un compito che ci assumiamo qui insieme e che dà un po' il segno dell'originalità di questo stare insieme oggi. Dicevo non ci sono conferenzieri, ci sono solo degli input. Ma il guardare oltre vuol dire guardare tutti in una stessa direzione. Che vuol dire? Vuol dire preoccuparci, pensare alla terni del futuro in cui vogliamo vivere noi e i nostri figli. Significa assumerci oggi il compito, in questo primo incontro, di trovare delle priorità che secondo ciascuno di noi sono essenziali per la ripresa, se vogliamo, della nostra vita sociale, culturale, della città, o per la rinascita, oppure per il rafforzamento dell'identità, insomma per la crescita di questa città. Il convegno è nato, dicevo, da una proposta del Vescovo in un ambito collegiale di riflessione della comunità cristiana, in cui ci interrogavamo su un atteggiamento, sulle cause di un atteggiamento che sentiamo diffuso a terni, in noi, all'esterno di noi, l'atteggiamento della depressione, l'atteggiamento del pessimismo, della sfiducia che sfocia poi in lamentele. Siamo molto bravi, a cominciare da me, a lamentarmi per quello che non va, ma è molto più difficile trovare le soluzioni o proporre delle soluzioni. Allora abbiamo detto, tentiamo di fare un incontro in cui intanto ci mettiamo d'accordo su un'esigenza, che è la concretezza. Ecco perché l'agenda, forum aperto a tutti per una agenda e l'agenda è concreta, si segnano degli appuntamenti, degli impegni precisi. Per la speranza non è una pia intenzione quella di dire, beh, recuperiamo un po' di speranza. No, è la speranza storica, la speranza concreta che si nutre di scelte quotidiane che ognuno di noi, a seconda dei diversi ruoli che svolge nel privato e nel pubblico, è chiamato poi a realizzare. Quindi la speranza indica guardiamo oltre il nostro particolare, guardiamo dritti al futuro di Terni, perché Terni ha mille modi per poter rafforzare la propria identità, per crescere, per recuperare la speranza nel futuro. Io sto quasi per concludere, faccio un accenno al metodo e poi leggo una riga dal Papa Francesco, laudato sì. Allora, il metodo di oggi, dicevo non ci sono conferenzieri, accanto a me c'è Giuseppe Croce, allora un conferenziere c'è. Il suo compito non è svolgere il tema, è dare, come fa un maestro di coro, il là affinché le voci si accordino, affinché non andiamo fuori campo, affinché non siamo stonati. Cioè lui ci richiama e ci dà delle dritte sulla cultura come risorsa, sull'economia della cultura, sull'impatto tra economia e sviluppo. Giuseppe Croce è economista, volutamente abbiamo voluto qui un economista, docente di economia all'Università di Roma, la Sapienza, volutamente per dare questo taglio al primo forum di oggi inciso. Se è il primo, ce ne sarà un secondo, ce ne sarà un terzo, un quarto? Sì. Attualmente ne abbiamo pensati due che inizialmente volevamo unificare, vero padre Giuseppe? Cioè cultura, società e qual era l'altro? Ed economia in senso stretto. Ecco, quindi comunque un prossimo forum è presumibile in aprile, poi sentiremo tutti, sul tema dell'ambiente, il terzo forum è sicuramente sul sociale, i primi di giugno presumiamo, e poi andremo avanti con le altre emergenze o tematiche che questa città ci pone all'attenzione come prioritarie a nostro avviso. Allora Giuseppe Croce quindi darà il là, fa un'introduzione all'argomento. Poi per avviare un dibattito che magari a volte stenta a partire, invece di essere anche molto attivi nell'utilizzare il tempo, abbiamo invitato tre giovani, tre cittadini che non hanno ruoli istituzionali e questa è stata una scelta voluta perché l'istituzione ascolterà attraverso l'assessore Armillei che rappresenta il sindaco che è impegnato a Perugia, la vice sindaca è malato, mi hanno pregato di dirvelo, io lo faccio, ma l'assessore Armillei a pieno titolo per la cultura sarà chiamato a trarre le conclusioni di questo dibattito e quindi esercitare il suo ruolo di discernimento e di impegno proprio per la funzione istituzionale che ha. E non solo l'assessore Armillei ma anche il Vescovo ha scelto di ascoltare in questa prima fase, questi primi tre interventi, poi interverrà prima come promotore di questo convegno subito dopo i primi tre e poi iscrivetevi perché finché il tempo c'è per noi possiamo fare anche la notte, c'è un piccolo break poi alla fine quindi oppure durante per chi non regge, una scherza a parte, quindi tutti gli altri possono intervenire. Allora i primi tre dopo Giuseppe Croce sono qua in sala, li possiamo far alzare in ordine alfabetico. Filippo Bussi è un esperto di cinematografia, di multimedialità nelle sue molteplici forme e si porta avanti un impegno con relazioni internazionali molto forti di cui molto spesso nessuno di noi sa nulla. Poi in ordine alfabetico, Filippo B viene C e quindi c'è Paolo Cecchini, parlerà per secondo come input iniziale, li abbiamo chiamati portatori di utopie, qualcuno ce l'ha contestato, dice ma volete essere concreti e poi chiamati gli utopisti, ma nel senso positivo del termine che è dialettico con la storia, sapete l'utopia nasce dalla storia e torna alla storia. E quindi Paolo Cecchini già assessore alla cultura, critico d'arte come sapete eccellente, è una delle nostre eccellenze in ambito culturale, quindi la ringraziamo davvero tanto, so che sta preparando cataloghi, mostre però ha trovato il tempo per stare con noi. Ed infine è la Z, scorriamo la Z nell'ordine alfabetico, è Federico Zacaglioni. Ecco, io e Federico Zacaglioni posso dire varie cose perché è stato anche un mio alunno, quindi sono molto molto affezionata, no? Ecco, davvero tanto. Ma al di là di questo abbiamo pensato a lui perché sta portando avanti delle esperienze molto importanti, era giornalista e ha saputo avviare un'attività e amministratore delegato di Sky Robotica. Sentiamo che tipo di esperienza. Quindi vedete scienza e lavoro, la cultura che può portare a investimenti in ambito economico, professionale, eccetera. Questo è un po' il taglio del discorso. Io non parlerò più tutta la serata, gentilmente Arnaldo Casali, nostro volontario direttore artistico del Festival, ma non parlerà del Festival, farà girare poi un microfono tra il pubblico, chi vorrà poi potrà venire qua. Insomma, ce lo gestiamo responsabilmente e liberamente finché il tempo c'è. Io dicevo di chiudere con una brevissima citazione che mi ha fatto scoprire Miro Virili, cioè l'avevo letta, ma lui l'ha richiamata, l'ha citato in un bel lavoro su Miranda. Mercoledì, chi di voi c'ha tempo, viene presentato questo lavoro interessantissimo nell'ambito della memoria storica, fatta dall'architetto Miro Vivili che è qua in sala. Grazie. Lui ha citato queste parole, io le riprendo. Insieme al patrimonio naturale, capitolo quarto, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale ugualmente minacciato. È parte dell'identità comune di un luogo e base per costruire una città abitabile. Non si tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, dove non sempre risulta desiderabile vivere. Bisogna integrare la storia, la cultura e l'architettura di un determinato luogo salvandone l'identità originale. Ecco, un'ecologia a 360 gradi. Penso che siamo in linea con questo. Grazie e do subito la parola a Giuseppe Croce. Grazie. Dopo questa introduzione di Stefania Parisi, mi rendo conto che sarebbe stato molto più comodo per me fare il conferenziere, perché il ruolo che invece mi si dà sembrerebbe più informale, più destrutturato e invece è terribilmente impegnativo. Non so se sarò in grado di creare questa coralità, questa armonia, però proverò a dare degli spunti. Allora, la prima cosa che mi sembra importante dire, che ho notato preparandomi dopo essere stato invitato a questa serata, è che io scorgo delle affinità, direi una continuità molto forte tra questa iniziativa, anche nelle parole agenda, futuro per la città, responsabilità, con l'iniziativa che la Dioce si prese nel 2008, il convegno del giugno del 2008, che probabilmente molti di voi ricorderanno. E io, ecco, volevo solo segnalare questa continuità e aggiungere il mio auspicio che quel cammino di condivisione, di franchezza nel confronto di appunto condivisione della responsabilità per la città, tra la comunità ecclesiale, la città, le varie componenti della città, i vari protagonisti, possa continuare con la stessa fecondità. Detto questo, io per iniziare devo mettere, diciamo, dei paletti, devo definire, perché il tema della cultura è estremamente ampio, il tempo che ho a disposizione non mi permette di svilupparlo tutto, ma non ne sarei stato comunque capace, perché le competenze che ho sono quelle dell'economista e quindi, per fortuna, dopo di me ci sono altri interventi di persone con competenze specialistiche, poi abbiamo le conclusioni del vescovo e dell'assessore. Quindi, allora, il primo assunto da cui partiamo è che qui si parla della cultura non come di quell'elemento fondamentale per la vita spirituale delle persone e delle comunità, ma, che è una cosa importantissima, però ne parliamo sotto un'altra luce, come possibile risorsa, come possibile leva per lo sviluppo, direi, materiale di una comunità, di questa città. Questo è il primo, diciamo, confine per andare, diciamo, per capirci su che terreno penso ci si debba muovere stasera. A questo allora io aggiungo un'altra premessa necessaria, credo condivisa, ma non lo so. Terni non ha a disposizione un patrimonio artistico e una tradizione culturale forte, di chiara fama. Molte altre città, anche più piccole di Terni, a poca distanza da qui, pensiamo a Sisi, si trovano con un patrimonio ben diverso. Questo significa che se Terni si vuole giocare delle carte per il proprio futuro nella direttrice della cultura, in qualche modo deve reinventare se stessa. È una città che deve creare, senza avere alle spalle un patrimonio che va semplicemente gestito e valorizzato. Ecco, se se ne vuole fare una leva per lo sviluppo importante. Terni deve ricombinare in qualche modo le vecchie, vecchie tra virgolette, ma sempre attuali, vocazioni storiche, a partire da quella industriale, con la vocazione alla cultura. Ed è un lavoro un po' particolare, forse non è la situazione tipica delle città medio-piccole italiane, quella in cui Terni si trova. E allora per fare questo segue che io utilizzerò una definizione di cultura molto estesa, che va molto oltre ciò che noi identifichiamo tradizionalmente come beni, servizi, attività culturali. E qui, diciamo, del resto è in sintonia col fatto che sono state invitate persone che apparentemente non si occupano direttamente di cultura, ma anche di tecnologia, di innovazione, di impresa. Quindi io penso alla cultura non solo identificata dalle classiche attività culturali, il museo, il libro, lo spettacolo teatrale, la musica, ma alla cultura che si ricombina con le tecnologie che mettono insieme elementi estetici, elementi funzionali in maniere nuove, ed anche alla cultura che diventa in realtà conoscenza e diventa l'input per attività economiche in tutti altri settori, il turismo, oppure l'industria manifatturiera. Credo che siano, diciamo, lungo tutte queste direttrici che Terni debba pensare alla cultura come leva per lo sviluppo futuro. Un'altra cosa che mi sento onestamente di richiamare, perché siamo a Terni e quindi non possiamo far finta di questo. Questo tema parla di novità, ma non è un tema nuovo per Terni, è un modo per guardare al futuro, ma Terni oramai ha anche un passato di rapporti, di tentativi tra sviluppo e cultura, di decenni almeno, non possiamo non dircelo. E io mi sento di aggiungere che questo passato è costellato più di fallimenti che non di grandi successi. C'è qualche successo, c'è stato, qualche bella realizzazione, alcune non sono rimaste, pensiamo al tentativo di impiantare l'industria cinematografica che ha dato un risultato importante, anche premiato a livello internazionale con Benigni, ma poi sappiamo che è rimasto il deserto. Potrei aggiungere un elenco di sigle, CMM, ISRIM, ICSIM, università, il corso di studi per le arti e lo spettacolo dentro il progetto universitario, che è durato quello che è durato e non se n'è più saputo nulla. Ecco, questo che credo che andava detto, non c'è il tempo per tentare un bilancio, sarebbe interessante, però non stiamo all'anno zero, quindi guardiamo al futuro, però abbiamo già alle spalle dei tentativi. Secondo me, e questa è l'ultima premessa, il tema della cultura per Terni nasconde o si accompagna ad un tema ancora più ampio. Terni, secondo me, esprime in maniera forza e latente una domanda fortissima di novità. La domanda di cultura, nei termini in cui ne dobbiamo ragionare stasera, sta dentro questo tema più ampio, una domanda fortissima di novità che c'è a Terni, direi soprattutto, credo, da parte dei giovani, anche se questa è una città che invecchia ancora più velocemente di quanto non invecchino in generale le società avanzate. E il problema è che questa domanda di novità fatica ad essere raccolta, ad essere rappresentata. Questa città fatica ad aprirsi al nuovo. Per cui, come sottotitolo a questa mia relazione, avevo pensato, chi ha paura della cultura e ha la domanda di nuovo a Terni, per problematizzare un pochino questo nostro incontro. Vengo ad un altro aspetto. Perché ci dobbiamo preoccupare dello sviluppo, anche attraverso la cultura, a Terni? Perché, e qui mi riaggancio all'indicazione che dava Stefania Parisi di pensare alla Terni del futuro, del futuro prossimo, in quanto città medio-piccola, Terni, come le altre città di questa pezzatura, sarà, ed è già da qualche tempo, coinvolta, forse sconvolta, da grandi cambiamenti, soprattutto di ordine tecnologico. A Terni siamo abituati a pensare che i posti di lavoro sono a rischio, che le attività produttive sono a rischio, perché Terni ha sperimentato con l'industrializzazione da sempre che l'industria portava a benessere, reddito, ma erano posti di lavoro a rischio, perché dipendenti da cicli economici e mercati internazionali, da decisioni negli ultimi tempi di decisori che hanno la loro sede, la loro testa lontano da qui, e quindi per Terni è sempre stato a rischio una fetta importante di posti di lavoro, quelli dell'industria. La novità è che oramai sono a rischio, non solo a Terni, anche i posti di lavoro in gran parte delle attività di servizio. Questo per effetto delle tecnologie. Pensiamo a che cosa implica il commercio online, che cosa significano le nuove tecnologie per il mondo delle banche e delle assicurazioni, con l'accessibilità ai servizi da casa, da remoto. Quindi non c'è più bisogno che molti posti di lavoro, un tempo radicati, legati fisicamente al territorio, alla città, la popolazione. Ecco, questo legame fisico si è rotto. Non c'è più bisogno di avere l'assicurazione nella nostra città. Io posso accedere a servizi anche sofisticati, anche qualificati, senza avere le sedi, l'interfaccia in città. Pensate ai servizi di informazione, ai servizi di biglietteria. Anche la grande distribuzione può essere rilocalizzata a qualche decina di chilometri da qui, lungo l'autostrada, a Roma. Questo significa che una parte importante dei servizi, quindi della produzione di reddito e dei posti di lavoro, anche qualificati, non sono più legati fisicamente alla residenza della popolazione. Se voi vedete le statistiche degli iscritti alle scuole superiori, c'è un dato importante che va proprio in questa direzione. In 30-35 anni si è passati dall'avere il 44% dei giovani delle superiori iscritti agli istituti tecnici, 44%, al 21% attuale. Quindi quelle figure professionali che hanno fatto la classe media, le figure professionali tipiche di una città medio-piccola, stanno perdendo quota, stanno perdendo peso. E questo le famiglie con le scelte scolastiche l'hanno già in qualche modo anticipato. Al contrario sono aumentati i licei, gli iscritti agli istituti professionali. Ci sono quindi processi che stanno erodendo i posti di lavoro in questa città di qualifica media, quelli della classe media. Le nuove tecnologie creano molte opportunità di lavoro qualificato, d'altra parte, ma queste opportunità, questi posti di lavoro qualificati vengono fortemente attratti dalle grandi città. Così come i giovani istruiti possono essere anche ternani, ma sono fortemente attratti poi per il lavoro dalle grandi città. Quindi capite che è aumentata la quantità di posti di lavoro a rischio e allo stesso tempo ci sarebbero delle opportunità che però una città medio-piccola come Terni fatica a trattenere, a creare, ad acquisire. Quindi il tema generale dello sviluppo, secondo me, per una città come Terni, per Terni in particolare, è cercare di creare, di acquisire una qualche quota di posti di lavoro qualificati a Terni, su cui poi innescare una ridefinizione dell'identità di questa città. Identità che si sta già ridefinendo, perché se voi vi guardate attentamente intorno vedete che ci sono però altre attività che stanno crescendo. La città, una città medio-piccola come Terni, sarà probabilmente destinata a diventare un luogo di servizi che definirei di relazione, cioè quella parte dei servizi nei quali ancora resta fondamentale il legame, il contatto fisico, l'interazione prossima tra chi offre e chi domanda il servizio. E poi saranno le città luoghi di socialità. Se voi guardate attentamente le nuove attività che stanno già occupando e caratterizzando la città, sono i servizi di cura, i servizi di consulenza, di assistenza, le palestre, le parrucchiere, le estetiste, le pizzerie, i ristoranti, i negozi che offrono cibi pronti, i forni. Questo non è casuale secondo me, perché queste sono attività non sostituibili dai computer e che coinvolgono un alto tasso di interazione prossima, personale, tutti i servizi per l'infanzia, per gli anziani, insomma si potrebbe fare un elenco. Il problema è che questa nuova realtà della città per emergere, per diventare forte e per soddisfare la domanda che c'è, deve avere una popolazione che può spendere, che ha del reddito e per avere questo dobbiamo avere anche una quota di posti di lavoro qualificati. Questo è il tema dello sviluppo dei prossimi anni, non di un lontanissimo futuro, insomma, non è fantascienza. Per i prossimi anni. Quali sono le condizioni alle quali uno sviluppo della cultura si può realizzare? Quindi qui, ripeto, pensiamo alla cultura come innanzitutto a quei tipici prodotti, servizi culturali, tradizionali, ma anche a tutte quelle attività in quei contesti in cui le attività culturali in qualche modo possono trasformare se stesse e aumentare il loro potenziale, anche economico, ma anche simbolico, combinandosi con le nuove tecnologie. Io qui, per fare esempi locali, mi sento di richiamare, penso che vadano in questa direzione, le esperienze di alcune iniziative che si prendono al caos a Terni, oppure in maniera molto evidente l'esperienza di Colle Scipoli del Festival Jazz, dove si combina editoria, musica, turismo, riqualificazione di un centro abitato. Ecco, questo è condivisione, condivisione dell'esperienza. Ecco, questi sono esempi. Poi c'è un terzo filone, quello in cui la cultura diventa input, quindi più che prodotto, trasforma le attività e i prodotti di altri settori, in particolare la cultura come conoscenza e formazione delle persone che entra nei settori industriali anche maturi. Perché si sviluppi tutto questo? Servono molte condizioni, non è facile, non si crea spontaneamente. Non siamo nella Silicon Valley, dove la combinazione miracolosa di un po' di fattori ha creato lo sviluppo che ha creato. servono. Serve un elenco di condizioni. La prima è che ci siano persone istruite, ma attenzione, questo non basta, non basta avere qui l'università. L'ho detto prima, le persone più sono istruite, più sono mobili, più se ne vanno facilmente. Casomai la difficoltà sta nell'attrarre o nel trattenere le persone istruite. Serve un ambiente fertile, quindi scuole stimolanti. Serve l'associazionismo, un associazionismo vivace. Anche luoghi di fisici dedicati alla condivisione di esperienze. Serve che i soggetti che operano in questi ambiti possano incontrarsi, condividere ciò che hanno da condividere, coordinarsi. Serve un'imprenditorialità di tipo particolare, nuovo. Serve un'imprenditorialità sensibile alle risorse intangibili, alle nuove tecnologie, legato al territorio ma con uno sguardo che va a spazio a livello globale. Servono nuovi imprenditori istruiti e molto aperti alla condivisione con altri imprenditori, con altri ambienti. Se fate caso, questo è un profilo imprenditoriale completamente diverso dal profilo degli imprenditori che hanno ricostruito Terni dopo la Seconda Guerra Mondiale e hanno accompagnato e fatto lo sviluppo nei decenni successivi. Quegli erano imprenditori in gran parte poco istruiti, molto legati ad un sapere tecnico, settoriale, molto gelosi della loro azienda, con una concezione molto gelosa, molto anche individualista. Quindi veramente c'è da fare un cambio molto forte anche su quel versante. E la domanda quindi è chi saprà raccogliere questa domanda di novità che c'è a Terni. Mi avvio alle conclusioni. Sulle conclusioni cerco di andare un po' più ancora sul concreto. Vorrei indicarvi, sottoporvi alla vostra valutazione, alla discussione, una mia selezione molto soggettiva di snodi cruciali nei quali in questi anni, in questi mesi, si gioca un po' la partita dell'apertura verso il nuovo, a Terni e verso anche la cultura, ma più in generale verso il nuovo per ridefinire lo sviluppo. Parto dalla crisi dell'Ast del 2014, che abbiamo superato in qualche modo brillantemente rispetto alle paure, ma che ci ha lasciato un paio di cose in eredità che io giudico negativamente. La prima, l'autorappresentazione che questa città dà di se stessa dopo essere passata in quella crisi. È una autorappresentazione, una concezione della propria identità molto difensiva, molto rinunciataria, molto statica, tutta giocata sul legame esclusivo tra la città e l'acciaieria. Se chiude l'acciaieria Terni muore, era lo slogan, e questo però rappresenta, superata quella fase di emergenza, rappresenta un'eredità pesante perché abbiamo applicato una sorta di autoriduzionismo per cui oramai ci concepiamo solo in funzione dell'acciaio. E forse fa un po' impressione vedere la coralità con cui si è vissuta quella crisi, con cui la città si è sentita coinvolta e la, a me è sembrata, freddezza se non scetticismo con cui questa città ha vissuto la vicenda della candidatura a Terni Capitale della Cultura. Eppure era in gioco ugualmente l'identità, il futuro della città. Seconda eredità per me negativa di quella crisi è la storia della richiesta di riconoscimento di area di crisi complessa che in maniera per me poco comprensibile ha finito con poi negli ultimi tempi, nei documenti si legge che invece la richiesta dovrebbe essere di riconoscere Terni come area di crisi non complessa, non saprei dirvi cosa significa questo passaggio, però dov'è l'aspetto negativo? Al di là della scarsa trasparenza di questa evoluzione, sta nel fatto che abbiamo perso due anni dietro a questa cosa senza che contemporaneamente partisse una discussione delle iniziative locali, per esempio nella direzione della cultura, senza che si assumesse comunque l'onere di creare delle alternative allo stato di crisi nel quale ci troviamo, senza che partisse per esempio un'interlocuzione attenta, forte con le multinazionali che in gran numero sono presenti nel territorio ternano e narnese. Terzo punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, cerco di andare veloce perché i minuti stanno finendo. Confindustria ha presentato pochi mesi fa un master plan, uno sforzo molto importante di ridefinizione di quali saranno gli investimenti privati e pubblici che ci si possono aspettare nei prossimi anni e su quali direttrici. Benissimo, uno sforzo apprezzabile, importante, la mia però impressione è che si rischi che vada a finire tutto questo sforzo nel legittimo, importante ma scontato e solito tentativo di attrarre a Terni risorse regionali, la fetta ternana di risorse regionali e se possibile ministeriali da distribuire poi con sussidi alle imprese locali. Questo ripeto è un tentativo, una linea ovviamente legittima e anche importante ma anche questa l'abbiamo sperimentata a lungo a Terni eppure abbiamo ancora a Terni e in Umbria in generale tranne i casi di eccellenza abbiamo livelli di innovatività delle imprese bassissimi, quindi il rischio è che questo sistema dei sussidi per le politiche industriali finisca per tenere a galla tutto quello che c'è, competitivo, non competitivo, innovativo, non innovativo, con grandi potenziali e senza grandi potenziali. Piuttosto mi chiedo perché in quel master plan non si è inserito una piccola attenzione, magari un progetto pilota per l'imprenditorialità sulle filiere delle nuove tecnologie, sulla cultura in maniera innovativa, perché nessuno raccoglie questa sfida? Perché è caduto nel nulla, nel silenzio il discorso sul cluster della chimica verde? Pochissimi anni fa in questa sala venne un ministro della Repubblica a dirci che per Terni c'erano grandi potenzialità, il cluster sicuramente è andato avanti a livello nazionale, non so se Terni ne ha avuto qualche beneficio. La discussione sulle aree ex baselle, non è, a un certo punto è terminata, perché quell'iniziativa non si riprende? Quelle potrebbe essere un asset nel quale cercare di impiantare nuove imprese nella filiera della chimica, ma la chimica verde, la chimica che utilizza la conoscenza, la chimica che utilizza personale altamente specializzato, formato, però anche di queste cose non c'è traccia né in quel masterplan né, devo dire, altrove. Ancora l'università, qual è il bilancio che diamo dell'università Terni? Di questo legame subordinato, un po' sfissiante con l'università di Perugia, da cui oramai penso sia chiaro a tutti che non verranno grandi novità per Terni, eppure Terni ha già speso, si dice, una ventina di milioni di, della città, diciamo, pubblici, privati, su quel ultimo punto, il turismo. Forse la cascata delle marmore è l'unico asset veramente di scala extra locale che abbiamo a Terni, la risorsa che già così com'è, diciamo, ha una fama, una notorietà, un impatto. Eppure le politiche turistiche a Terni e tutta la Valnerina sono gestite in maniera frammentaria, super frammentaria, non c'è una visione, non c'è una interazione, un tentativo di aggregare, non c'è un logo comune per la Valnerina, per dire, che potrebbe avere come fattore di richiamo la cascata. Eppure la cascata, attenzione, non è, come si diceva prima, semplicemente una risorsa naturalistica. Lì si sposa veramente natura e cultura, perché quello è un prodotto artificiale e quindi ha delle potenzialità anche sul versante della combinazione originale con la cultura. Ci sono, per esempio, lezioni dall'esperienza di Expo di Milano che potrebbero in qualche modo ispirare per la valorizzazione della cascata. Io penso di sì. Allora vado veramente alla conclusione. Mi sembra che questa città esprima una domanda fortissima di novità, anche nella direzione della cultura in maniera estesa, come dicevo. Mi sembra che però il sistema, la città, è molto definita su un perimetro molto stretto di competenze, di soggetti, di interessi, che hanno come loro istinto, direi, quello di riprodurre se stessi. E questa domanda fatica ad essere accettata. Quindi, ahimè, ancora ci troviamo qui ad aspettare che si crei un'apertura che faccia emergere una Terni nuova e in qualche modo inedita. Grazie. Grazie, Giuseppe. Grande sforzo di sintesi, davvero grazie. Allora, i nostri utopisti, tra virgolette, io li inviterei tutti e tre al tavolo, così guadagniamo anche tempo. Allora, Filippo Bussi, Paolo Cicchini e Federico Zagaglioni, che prenderanno la parola nell'ordine. Allora, sì, forse tu resta, io scendo di sotto. Sì. Eccoci. No, no. Sì. Tempi, mi raccomando. Allora, buonasera a tutti. Sì. Io, così, sono stato invitato come, non so, come esterno. Io in realtà non sono dentro i discorsi della città di Terni. Io ho scelto di vivere in Umbria, sono romano di origine, ma vivo in Umbria da quasi vent'anni, ad Attigliano. Forse ho scelto in Umbria perché mia madre originariamente è Umbria e quindi magari mi ha trasmesso qualcosa. È un paesino vicino Cascia. Mi ci trovo molto bene, comunque l'Umbria mi piace e per questo motivo io da quando mi sono trasferito ad Attigliano ho iniziato a guardarmi intorno perché io sono sempre, come dire, uno sperimentatore, quindi mi piace conoscere persone, avere... non si scelta. La mia prima esperienza è con Terni perché in quel momento era stato appena aperto il centro multimediale. L'idea era molto bella, nel senso, in origine, cioè che era un posto dove le aziende andavano per collaborare tra di loro, quindi ognuna faceva un pezzo di un lavoro e passava quello che non poteva fare all'azienda che invece poteva farlo. Quindi c'era un interscambio sia di lavoro, sia di clienti, quindi di soldi, eccetera, ma anche di esperienze. Se non che questa cosa è rimasta appunto un'utopia già dall'inizio. Cioè io sono andato alla visita inaugurale, ci ha fatto fare, credo fosse l'architetto Ballarini in quel momento, ci fece fare tutto il giro. Un bellissimo posto, in realtà non organizzato per quello che dicevano di dover fare, cioè non è un posto dove si lavora cinema, post-produzione, eccetera, doveva essere organizzato diversamente. Ma i due teatri che sono stati fatti erano assolutamente di primaria importanza per l'epoca, tant'è che appunto poi furono scelti dalla produzione di Benigni. E anzi, in quel momento non ce n'erano i teatri così belli, nel senso insonorizzati, con le luci messe in un certo modo da poter essere utilizzate, eccetera. Quindi ho avuto un po' di problemi, devo dire, con le passate amministrazioni, perché poi alla fine volevano da me un sacco di soldi per prendere una stanzetta dove io non potevo fare nulla, perché poi là dentro in realtà tutte queste aziende che ci devono essere non ci sono mai state. Ce n'era qualcuna che però stava lì semplicemente perché aveva beneficiato di finanziamenti e quindi fin tanto che ci sono stati i soldi era lì, dopo di che sarei andata. Allora io me ne sono, diciamo, mi sono tirato fuori e ho seguito un po' la cosa dall'esterno, cercando sempre di poter collaborare grazie anche ai contatti che ho internazionali. Una delle varie cose che avevo proposto, io sono stato rappresentante per quasi 15 anni di un'azienda americana, di un sistema sonoro unico al mondo, nel senso che c'era questa qui soltanto, non è che c'erano altri, come si dice, competitor. E ho detto a qualcuno degli assessori dell'epoca, facciamo dentro il centro multimediale un punto di riferimento di questa azienda di cui io sono il rappresentante italiano. Anche lì nulla. Dopodiché, secondo me, la città poi ha detto molto meglio di me il Giuseppe. Praticamente si sono perse un sacco di occasioni, fra cui quella primaria per il mio campo è quella del film di Benigni. Cioè, diciamo, ho imparato a vedere le cose senza troppi abbellimenti. La produzione di Benigni sicuramente è venuta a girare a Terni perché gli conveniva e perché gli hanno fatto delle supercondizioni in virtù del fatto che il centro non stava funzionando. E questo è un dato di fatto, quindi non è perché è stata scelta o meno. Però è stata una bella esperienza, comunque il film è venuto e casualmente ha vinto l'Oscar, che non è una cosa che accade tutti i giorni. Diciamo che ad oggi si contano, penso, quattro Oscar, cinque forze italiane, l'ultimo con Sorrentino. E quindi di questa cosa qui, anziché approfittarne e poter da lì creare e portare avanti tutta una serie di iniziative, c'è stato proprio il freno a mano tirato e non si è fatto più niente. Un'altra delle cose che avevo proposto nel tempo era stata, avevo dei contatti con il cinema indiano, che cercava collaborazioni per venire a girare in Italia. Ovviamente loro pensavano a Cinecittà, perché Cinecittà è il suo nome, ma Cinecittà oramai è una scatola vuota, che quello che tocca distrugge, come poi sapete bene anche per quanto riguarda Papigno. E quindi ogni cosa che ho provato a proporre è sempre caduta nel nulla. Quindi c'era, almeno a quel momento, un immobilismo totale che quantomeno ha rubato tanto futuro a dei giovani che non hanno potuto approfittare di questo momento d'oro. Perché ti arriva in casa un film che è riconosciuto a livello internazionale e tu non fai nulla. Ho proposto dei corsi, ho proposto tantissime cose, ma ripeto, a livello internazionale, quindi non la formazione fatta per prendere il finanziamento e poi pensare in piccolo, mi faccio la mia stanzetta, rimango lì. No, sono cose che poi uno interagisce con altre aziende americane, spagnole, francesi, eccetera. Quindi la tua proposta è con l'utopia che porta avanti. Allora, diciamo che non sono in grado di fare una proposta, nel senso che tutte quelle che ho fatto oramai sono datate, andrebbero riviste, andrebbe fatto un planning, oramai insomma è cambiato tutto quanto e se uno non si adegua con tempi rapidi rimane lì fermo. Quindi di idee ne ho tante. Terni può avere questa vocazione cinematografica. Terni può averla, ma soprattutto ha già quello che ha in casa. C'è una cosa preziosissima che si chiama il centro multimediale con i due teatri, per dirne una. Non ricordo adesso Papigno com'è messa. Però il centro multimediale sicuramente offre una grandissima base di partenza, quantomeno per produrre soldi, perché poi non è che la cultura necessariamente a volte viene intesa come cosa per cui bisogna spendere, ma non porta. Non è vero. La cultura organizzata bene con un'idea imprenditoriale porta soldi a molti. Faccio un esempio più banale. Ho conosciuto Lucas, quello della famosa Lucasfilm, quello che ha fatto Guerre Stellari per chi conosce questo tipo di film e sono stato nel suo studio di allora che era a San Francisco. Lui per scelta non ha voluto entrare nei meccanismi di Hollywood e si è fatto questo studio a 900 km in un posto come fosse Terni, cioè per l'America. Quindi è come se io a Terni mi creo un mio centro, al di fuori di tutti i meccanismi hollywoodiani. Questo signore ha cominciato a fine anni 70, ha fatto dei film che hanno spopolato, sono diventati riferimento in tutto il mondo e due anni fa la sua azienda l'ha venduta alla Disney a 4 miliardi di dollari. Quindi, come dire, di cose si possono fare. Grazie. Grazie davvero. Paolo Cicchini. Ti ringrazio. Beh, anzitutto io vorrei dire una cosa. Non mi sento un portatore di utopie. Certo, indubbiamente continuare a lavorare in contesti, e non mi riferisco soltanto al contesto ternano, ma anche ad altri contesti culturali al di fuori di Terni, in condizioni come quelle che ci si trova ad affrontare costantemente, beh, significa un po' a volte cadere in quella che è stata detta precedentemente la depressione. Ecco, forse sarebbe bene dire con Virgilio ulla spes victis, non sperare ullam salutem. Cioè, quindi, dato io sono convinto di una cosa comunque, che tante potenzialità a Terni, ma purtroppo c'è un purtroppo. E le idee, cari amici, camminano con le gambe degli uomini. E gli uomini che ci sono, e non mi riferisco agli attuali, ma generazioni di persone che hanno amministrato questa città, sono persone che hanno purtroppo provocato i disastri che oggi questa città sta di fatto vivendo. Vedete, si sta parlando di cultura. Per la prima volta, io ho inteso poco fa il professor Croce, parlare di cultura in senso concreto. Vedete, io quando parlo di cultura intendo la cultura come intellettualismo etico, ovvero è un uomo di cultura colui che è capace, colui che ha proprio socraticamente le competenze per fare qualcosa. Questo è fondamentale. Chi è preposto a fare qualcosa deve saper fare quel qualcosa per il quale è chiamato ad operare. E vi lo dico, non mi sembra che in una realtà come quella che viviamo da tanti anni, e guardate anche quando io ero assessore, dico le stesse identiche cose, c'era una situazione analoga perché ci siamo lasciati scappare via Carlo Rambaldi, del quale sono stato amico fino alla fine, quindi ho vissuto le sofferenze di Carlo, sono ancora vicino al figlio, alla famiglia, quindi qualcosa di drammatico. Un uomo che ha preso tre premi Oscar e che viene cacciato via, allontanato come se fosse un qualcosa da nulla. Ho inteso poco fa, il professor Croce dice che Terni non ha grandi realtà culturali, e no signori, su questo non sono assolutamente d'accordo, Terni non sa assolutamente sfruttare ciò che possiede, è un dato di fatto. Il professor Croce ha detto una cosa molto importante, è necessario ad esempio che il turismo che abbiamo nella Valnerina diventi un pochino più organico. Oggi viviamo in un momento da qualche anno in arte, ad esempio si è parlato di arte programmata, il discorso di Umberto Eco, a partire dalla fine degli anni Cinquanta. E cos'è questo concetto di programmazione? Operare insieme per la realizzazione di un progetto. Ma signori, la Cascata delle Marbole non può vivere da sola, la Cascata delle Marbole deve vivere e collegarsi con un progetto che è strettamente connesso a quello che è il progetto dell'intera Valnerina. Sulla Valnerina, lungo l'asse della Valnerina, abbiamo San Pietro in Valle, dove è nata la pittura italiana del XII secolo e XIII secolo. La pittura di Giotto e Cavallini è stata anticipata all'interno di San Pietro in Valle, ma ce lo vogliamo dimenticare questo. Abbiamo una tradizione culturale del 300-400 nel nostro territorio, fondamentale. Pensate al maestro del tettico di Arrone. Non è che si dicono queste cose per citare un autore così, per ricordare che siamo depositari in una tradizione culturale fondamentale. Quando ero assessore ho cercato di aprire Carzule, non a quel che si sta prendendo adesso, la festa della pizzica, mi pare, di aver letto da qualche parte. Avevo raggiunto quasi degli accordi molto precisi con Menotti, con il Festival dei Due Mondi, per portare a Carzule il teatro greco e romano. Ma signor Ricardule è splendida, ma dobbiamo mettercelo sulla testa, lavoriamo tutti insieme, rimbocchiamoci le maniche. Io sto portando avanti l'Infinito Festival della Valnerina, fino alla Valnerina, con Visso e con Reganati. Siamo riusciti a portare il nostro Aurelio De Felice ad essere il logo di Casa Leopardi. La sua scultura, l'adolescente con l'Ocarina è sul colle dell'Infinito, mi vantro di avercela portata nel 2002. Cioè, ma vogliamo renderci conto che non siamo secondi a nessuno? Vogliamo stringere questi rapporti con questo mondo che ci sta vicino? Dico, e poi pensiamo un pochino sempre a San Valentino. Ma come si fa a vivere un'esperienza di valorizzazione di San Valentino come la stiamo vivendo? Ma consentitemelo. Ma San Valentino è estrettamente connesso, ecco lo dico all'assessore, alla cascata delle marmore. Cioè, perché sapete, le cascate del Niagara sono una realtà benaugurante per le coppie che si amano. La stessa cosa potrebbe essere fatta con la cascata delle marmore. E poi la cascata delle marmore, scusate, sono costretta a correre, ma la cascata delle marmore ha anche un'altra funzione, un'altra grande importanza. La cascata delle marmore presuppone la possibilità di realizzare nel nostro territorio un turismo scolastico. Perché oggi anche i bambini sanno che quando Virgilio ha scritto l'Eneide e quando ha descritto l'ingresso nell'Averno, cioè si è riferito di fatto alla cascata delle marmore. Non dimentichiamoci che nei Monti Sibillini, non dimentichiamoci le grotte di Eolo che abbiamo accesi. Noi abbiamo tutto un territorio che deve essere valorizzato. Non dobbiamo aver paura di fermarci. Io mi sono reso conto con la mossa di Metelli. Quando venne a Terni, io insegnavo al liceo classico di Sondrio, ma tanti e tanti e tanti anni fa, ero un ragazzino, io ricordo che venne a Terni e vedi per la prima volta la mossa di Metelli, ne rimasi affascinato ed ero convinto che tanti altri avrebbero preso questa fiaccola di Metelli e l'averebbero portata avanti. Poi ci abbiamo dovuto pensare io e la dottoressa Eleonoria a portare avanti questo a distanza di 40 anni. Nessuno aveva fatto niente per Metelli. Signori, io credo che sia veramente il colmo. Credo che tante cose possano essere fatte. Guardate, potrei parlare di tante altre cose. Un premio letterario San Valentino, ma ci avete mai pensato di entrare il premio dell'amore? Se è la città dell'amore, ma qualunque editore importante potrebbe finanziare e sponsorizzare un premio di tal genere. Ecco, allora io vi dico con molta franchezza. Intellettualismo etico, io vorrei questo. Vorrei che chi è proposto a guidare questa città possieda le capacità e le competenze per farlo. Guardate, io mi congratulo e lo dico con sincerità grandissima e lui lo sa molto bene con l'attuare assessore alla cultura del Comune di Terni. Gode di tutta la mia stima. Sono convinto che in questo momento è l'uomo migliore che può portare avanti il discorso di potenziamento di questa città, di miglioramento di questa città. Io gli dico, assessore, prendi di prego in mano proprio questo. Io sono con te per portare avanti questa battaglia. Ma Terni non merita di vivere nelle condizioni in cui sta vivendo. Ecco, quindi cerchiamo un pochino di parlare concretamente di cose che possono essere realizzate. Guardate, quando ero assessore alla cultura e tutti lo ricordano, c'era un attivismo eccessivo. Ma quante cose sono state fatte? Quanti semi sono stati gettati. E ricordate una cosa molto importante. Ecco, come hanno trattato Carsole, non c'erano neanche i cartelli che indicassero Carsole quando sono diventato assessore. Ma sapete che cosa mi sono trovato con Carsole? È una bella denuncia per averci organizzato una manifestazione, è chiaro, con l'autorizzazione della sovrintendenza, ma perché la mattina avevano tardato per due ore a portar via i bagni chimici. Lo ricordi bene, Stefania? Questa è la realtà di questa città, beh, che non avvengono più queste cose, se no altrimenti veramente. Scusate. Grazie. Grazie Paolo Cecchini. Non ha perduto la passione di sempre, io intanto perdo tutto qua del microfono, poi chiamo Marco. Allora, la parola a Federico Zagaglioni. Penso che funzioni, sì. Buonasera. Io mi sento un po' un'intrusa a questa tavola nella quale sono presenti studiosi come il professor Cecchini, operatori del settore culturale dello spettacolo, come Bussi che ha parlato prima di me. Io immeritatamente faccio l'amministratore di una società tecnologica che produce droni. Dico immeritatamente perché non era il mio lavoro, non lo è mai stato, è la mia prima esperienza in quel ruolo. Vengo da un mondo del tutto diverso che è quello dell'informazione, in quel caso industria culturale, e da qualche anno, proprio per la necessità di essere resilienti e quindi di cambiare la propria capacità di mettersi in gioco all'interno delle dinamiche nuove del mondo del lavoro, svolgo un ruolo di relazioni esterne e di comunicazione in un gruppo industriale del territorio. Questo gruppo industriale fa investimenti di capitale di rischio in società innovative e quindi sono stato indicato dal gruppo come amministratore in questa società e quindi il mio ruolo in quella società è esattamente quello di fare il distruttore dell'utopia. Vorrei anche un tema un po' di paradosso su questa tavola. Perché? Perché chi fa industria partendo industria, chi fa impresa partendo da zero, dall'intuizione, dalla classica start-up, di moda anche, lo sentite ripetere, in maniera anche abbastanza ossessiva. Chi fa start-up parte dal sogno, dal sogno dell'avere avuto un'idea e poi doverla trasformare in qualcosa di concreto. Spesso questo elemento creativo si scontra con dei fattori che invece sono del tutto misurabili e del tutto ripetitivi che vanno messi a leva. Sono il team che compone questa impresa che si crea che deve essere completo in tutti gli aspetti di un'azienda e quindi ci deve essere chissà fare i conti, ci deve essere chissà costruire, ci deve essere chissà inventare, ci deve essere chissà fare ricerca e sviluppo, ci deve essere chissà intuire in quali settori conviene andare a buttarsi piuttosto che in altri. E quindi deve essere un team completo, una squadra completa, una squadra di calcio, diciamo così. Poi ci deve essere un prodotto, cioè quella società deve essere in grado di sfornare qualcosa che abbia una sua entità e che quindi sia una cosa proponibile.